Salve a tutti, benvenuti al corso di LibreOffice Impress. È un programma molto molto simile a PowerPoint, infatti chi ha delle precedenti esperienze con PowerPoint si troverà sicuramente bene e sarà molto semplice imparare a usare anche questo programma. L'alternativa più famosa ha Microsoft PowerPoint perché è gratuita e disponibile per tutte le piattaforme Linux, Mac e Windows, quindi è facilmente utilizzabile da chiunque su qualsiasi sistema operativo. Per chi non ha nessuna esperienza di PowerPoint parliamo di che cos'è Impress o comunque un programma di tipo PowerPoint. È un programma che permette di realizzare delle presentazioni da mostrare, non so, in riunione, in università, insomma in un ambiente dove dobbiamo proiettare delle diapositive. E infatti ecco qua sulla sinistra troviamo il numero delle diapositive che per ora è limitato ad uno, mentre qua a destra ci sono i layout. I layout sono degli schemi preimpostati che ci aiutano a organizzare le diapositive. Di base troviamo questa con un titolo e un testo, quindi facciamo qua per aggiungere un titolo, scriviamo titolo, e qua per aggiungere un testo e altre cose, quindi prova, prova, prova. Però questi sono solo dei suggerimenti, dei layout, perché se noi appunto digitiamo il layout bianco, ovviamente non quando abbiamo già scritto, però quando è in questo modo che ancora bisogna scrivere tutto, possiamo cambiare il layout su bianco per fare tutto da noi, oppure altri tipi di layout. Il primo di solito è un titolo e un testo, però ci sono anche questi, come potete vedere, vari tipi di layout. Questi simboli sono semplicemente dei collegamenti rapidi se vogliamo inserire una tabella, un grafico, audio video o un'immagine. Tutta questa roba non viene visualizzata se riproduciamo le diapositive, è solamente in fase di preimpostazione della diapositiva. Infatti se clicchiamo adesso qua il pulsante play dalla prima diapositiva vedrete che è tutto bianco, quindi non viene riprodotto tutto quello che è il layout di base. Quindi partiamo da questa classica diapositiva vuota. Titolo, come abbiamo detto, titolo e un testo di prova, quindi testo di prova. Cosa possiamo fare? Innanzitutto tutte le varie cose che possiamo fare anche sul writer, quindi selezionare il testo e scegliere il font, la dimensione, i caratteri, grassetti, cursivo, sottolineato, il centramento, quindi a linea sinistra, centra orizzontalmente, a linea destra, giustificato. Qua possiamo scegliere tutto sulla spaziatura, il rientro, quindi questo per quanto riguarda il testo. Poi ovviamente possiamo anche scegliere il colore del testo. E appunto per quanto riguarda la modifica del colore, io di base non avevo qua la scelta del colore, sono dovuto andare su visualizza, barre degli strumenti, barra dei colori ed ecco che si è attivata. Quindi adesso possiamo selezionare il nostro testo e scegliere il colore che più ci aggrada. Qua per scegliere il colore nella tavolozza, quindi questo per quanto riguarda il colore. Poi per creare una nuova diapositiva, allora basta andare qua, tasto destro, nuova diapositiva ed ecco la seconda diapositiva. Qua facciamo prova 2. Ora mi ha preso il punto perché ovviamente era un layout preimpostato per fare questo, ma basta cancellarlo. Fare vuoto e facciamo per conto nostro. Quindi facciamo inserisci riquadro di testo, con il sinistro del mouse trasciniamo ed ecco che abbiamo creato una casella di testo. Prova prova prova, se vogliamo fare un testo pulito da zero. Poi dopo possiamo spostarlo dove ci pare, scegliere l'ingrandimento del testo e tutte le varie cose che di solito dovremmo saper fare se abbiamo una minima conoscenza di programmi di videoscrittura. Adesso una cosa da sapere, le diapositive si possono scambiare fra di loro, quindi possiamo dire che questa deve andare al primo posto e questa al secondo posto. Quindi possiamo scambiarlo quando vogliamo senza nessun problema. Adesso se facciamo tasto play qua su in alto, dalla prima diapositiva vediamo la prima diapositiva titolo testo di prova, noi stiamo facendo la nostra presentazione, poi clicchiamo ed ecco la seconda diapositiva. Termine della presentazione, abbiamo solo due diapositive. Altri comandi utili, tasto destro, possiamo fare duplica diapositiva o elimina diapositiva, rinomina diapositiva e qua ci sono altre cose che vediamo fra un po'. Quindi continuiamo a creare tutte le varie diapositive che ci interessano, man mano che compiliamo tutte le varie diapositive, facciamo il nostro testo, la nostra presentazione. Adesso vediamo altre cose che possiamo fare con il testo o aggiungere in una schermata di testo. Innanzitutto una cosa che può essere utile in certi casi, il collegamento ipertestuale. Lo conosciamo perché è il classico collegamento che troviamo anche nelle pagine web, che ci rimanda a un'altra pagina web. In questo caso selezioniamo il testo che vogliamo far rimandare a un documento, un sito web e clicchiamo sull'icona delle catene, quindi collegamento ipertestuale. Ci viene chiesto adesso che sito web deve essere, quindi la pagina html o quello che è, oppure documento, scegliamo il percorso e il documento da allincare. Chiudi, poi altre cose che possiamo inserire, allora, selezioniamo un'altra diapositiva, possiamo inserire una tabella, ad esempio, eccolo qua. Il pulsante tabella, facciamo clic qua e ci viene chiesto inizialmente di come deve essere, poi possiamo anche dire altre opzioni e definire noi stessi il numero di colonne e di righe. Ne prendo una a caso, eccolo qua. Anche se è stata ultimata, possiamo aggiungere ancora colonne e righe, come qua, come potete vedere, qua giù c'è inserisci riga, ecco qua, e qua c'è inserisci colonna. Poi abbiamo elimina riga e elimina colonna, quindi torniamo indietro di una riga e di una colonna. La tabella può essere spostata all'interno della diapositiva senza nessun problema. All'interno della tabella ci possiamo scrivere quello che vogliamo. Prova, prova. Vedete, in questo caso va a capo. Qua c'è la struttura della tabella e sono vari layout, come potete vedere. Comunque i colori si possono definire. Quindi una singola casella o tutta la tabella. Se noi selezioniamo, non lo so, la prima in alto a sinistra. Ecco qua, il colore, questo, non è quello del testo ma è quello del riempimento della cella. Quindi possiamo mettere, non lo so, color salmone ed ecco qua che abbiamo il color salmone sulla cella in alto a sinistra. Altre cose che possiamo decidere qua ovviamente è la centratura, la spaziatura, il rientro, tutte le varie cose, quindi tutte le varie impostazioni della tabella. Questa è una cosa molto utile perché la tabella può essere usata nella presentazione. Altre cose, un'immagine, se facciamo clic sull'icona dell'immagine ci apre un percorso per scegliere un'immagine da inserire, che poi sarà ridimensionabile e spostabile all'interno della diapositiva. Idemo anche per quanto riguarda audio o video, basta cliccare qua. Poi possiamo inserire, ecco qua in basso, a sinistra lo vediamo, delle linee, delle forme, quindi cerchio. Qua abbiamo la scorciatoia per il riquadro di testo, quella che facevo io facendo inserisci riquadro di testo. Siccome è una cosa appunto molto usata, hanno fatto una scorciatoia, quindi basta anche cliccare qua e trascinare ovviamente per scrivere il testo. Questo è per disegnare a mano libera, quindi simbolo della matita. Ecco qua, una volta finito si può spostare. E poi, questo per ridimensionare, abbiamo questo per fare dei connettori, quindi facciamo clic con il sinistro, ecco qua. Quindi per fare delle linee a connettore. Ecco qua, possiamo decidere alcuni settaggi. Poi abbiamo anche degli smile, quindi come potete vedere alcune faccine, sole, luna, saetta, cuori, fiore. Ovviamente, se cercate qualcosa di particolare, conviene cercare sul web le immagini necessarie e poi importarle con la funzione immagine. Quindi si perde sicuramente meno tempo se avete già un disegno, un qualcosa già pronto da un altro programma. Ovviamente poi su tutte queste linee, forme, che inseriamo qua a destra abbiamo il menu contestuale che ci permette di decidere varie cose, tra cui il colore, la trasparenza, lo stile, freccia. A seconda di quello che decidiamo ci sono varie cose. Ecco qua, abbiamo aggiunto una freccia in alto a sinistra. Quindi abbiamo visto più o meno che cosa poter inserire all'interno di diapositive. Vi ricordo che questo è un tutorial, diciamo, base intermedio, poi per cose ben definite e particolari preferisco fare video a parte. Adesso vediamo questi settaggi. Già la struttura qua ci consente di vedere un tipo di organizzazione diverso da quello di far vedere semplicemente la diapositiva, ma ci permette di vedere come è strutturato il nostro documento in varie diapositive. Qua è visualizzabile anche la nota, quindi se noi aggiungiamo delle note, per esempio, questa diapositiva... No, anzi, facciamo una cosa. Ricordarsi di citare il testo tot durante la riproduzione di questa diapositiva. Ora vi spiego cosa ho fatto. Allora, noi siamo in modalità normale. Dobbiamo fare una presentazione. Abbiamo fatto le nostre diapositive con il nostro testo, le nostre forme, eccetera. Le note possono essere utili come memorandum per ricordarci che dobbiamo citare qualcosa. Noi apriamo le note e vediamo se c'è qualcosa che ci dobbiamo ricordare. Quindi scorriamo, vediamo che non ci sono note, ma arrivando qua c'è scritto ricordarsi di citare il testo tot durante la riproduzione di questa diapositiva. Ovviamente questa nota non viene riprodotta nella diapositiva, vediamo. Ecco qua. Come potete vedere non c'è la nota, quindi serve solo a noi. Ho riprodotto da questa diapositiva con il tasto inizia dalla diapositiva corrente, perché se avessi fatto inizia dalla prima diapositiva sarebbe partito da capo. Quindi dalla diapositiva corrente noi selezioniamo la diapositiva e facciamo clic sul tasto diapositiva corrente per riprodurre la diapositiva corrente. Con il tasto sinistro del mouse si va avanti di una diapositiva, questo è in modalità riproduzione. Con il tasto destro possiamo scegliere precedente. Sempre con il tasto destro possiamo anche scegliere via alla diapositiva e scegliere quale diapositiva riprodurre. Oppure ESC, fine presentazione, torniamo al documento. Poi qua in diapositive, tasto destro c'è struttura diapositiva, possiamo vedere, possiamo scegliere il modello di diapositiva. Qua rinome diapositiva l'abbiamo già visto, layout di diapositiva. Nascondi diapositiva, qua serve per nascondere. Quindi se adesso facciamo una nuova diapositiva tra la 4 e la 6, la 5 viene ignorata. Allora, prima togliamo nascondi e rilasciamo mostra. Nella 5, all'intanto mettiamo modalità normale. Nella 5 facciamo una forma, qualcosa a caso. Andiamo sulla 4. Eh, nè, scusate. Nella 5, tasto destro, nascondi diapositiva. Andiamo sulla 4. Riproduci diapositiva corrente. Click. Vedete che è stata ignorata la diapositiva con il rombo. Questo perché l'abbiamo nascosta. Quindi il pulsante mostra e nascondi diapositiva può servire per questo tipo di utilizzo. Bene, concludo qua la prima parte. Nella seconda vedremo altre cose, inclusa l'animazione degli oggetti che vengono inclusi nelle diapositiva. Quindi testo e altri oggetti. Un saluto a tutti. Grazie a tutti.